Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo Rendo grazie a Dio che io servo, come i miei antenati, con coscienza pura, ricordandomi di Te nelle mie preghiere sempre, notte e giorno. Mi tornano alla mente le Tue lacrime e sento la nostalgia di rivederti per essere pieno di gioia. Mi ricordo infatti della Tua schietta fede, che ebbero anche Tua nonna Loide e Tua madre Unice, e che ora, ne sono certo, è anche in Te. Per questo motivo ti ricordo di ravvivare il dono di Dio, che è in Te, mediante l'imposizione delle mie mani. Dio infatti non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Non vergognarti dunque di dare testimonianza al Signore nostro, né di me, che sono in carcere per Lui, ma con la forza di Dio soffri con me per il Vangelo. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo. Cantate al Signore, uomini di tutta la terra. Cantate al Signore, benedite il Suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate di giorno in giorno la Sua salvezza. In mezzo alle genti narrate la Sua gloria. A tutti i popoli dite le Sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Date al Signore, o famiglie dei popoli. Date al Signore gloria e potenza. Date al Signore la gloria del Suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dite tra le genti, il Signore regna. È stabile il mondo. Non potrà vacillare. Egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, il Signore disegnò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé, in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro, La Messa è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della Messe perché mandi operai nella Sua Messe. Andate. Ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite pace a questa casa. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di Lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all'altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto. Guarite i malati che vi si trovano e dite loro, è vicino a voi il regno di Dio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.